Sono solamente da adeguare le strutture amministrative a una divisione di giunta che è frutto di una legge che riduce a 7 gli assessori, così come riduce a 30 il numero dei consiglieri, una legge giusta perché è giusto ridurre i costi della politica, una legge che non deve trasformarsi in una nuova del Rio, che ha creato più confusione che risparmi nelle deleghe tra province e ex province, che non ha fatto risparmiare un soldo ai cittadini. C'è bisogno che gli uffici amministrativi della Regione, dove lavorano molti e bravi tecnici, professionisti e dirigenti, che andranno a collaborare con i nuovi assessori, siano divisi in modo razionale e gli uffici possano continuare a lavorare con una loro coerenza, anzi, possibilmente possano essere accorpati in modo di essere più efficienti. Questo richiede un po' di lavoro d'aggiustamento nel taglio delle varie deleghe per non fare delle cose frettolose e un po' approssimative.